Ipse Dixit l'ha detto lui la più importante locuzione nelle dispute scolastiche ragazzi questa live sarà una delle migliori della storia del canale siete fortunati se riuscirete a vederla in diretta o in ogni caso vi consiglio di seguirla perché i contenuti saranno assolutamente non soltanto corposi e tanti ma di altissima qualità non sarà una live banale spazieremo dalla filosofia classica alla matematica alla scienza moderna con dei contro esempi anzi una live che potrebbe tra virgolette anche anche in generale delle grosse polemiche ma l'intelligenza ti costringe a ragionare in maniera in maniera diretta come fu per il più importante allievo della scuola pitagorica scusate il più importante allievo di pitagora il paso di metaponto allievo fino a un certo punto diventerà il cavallo di troia della setta dei pitagorici ma ci arriveremo intanto da cosa deriva la locuzione latina Ipse Dixit l'ho citata anche spesso come come critica io stesso a chi mi tra virgolette attaccava con delle argomentazioni non medievali ma ancora più antiche tanto che il grande Cicerone sapete il più grande oratore della storia della dell'impero romano in sostanza della storia di Roma era originario di queste parti qui vicino e Cicerone grande senatore inventore della tecnica di memorizzazione dei loci nella sua opera in una delle sue opere più importanti che era si chiamava de natura de arum quindi sulla natura degli dei in sostanza de orum scusate de natura de orum de significa circa ebbene in quest'opera lui utilizza una locuzione riferita ai pitagorici ma è una locuzione critica io vi posso anche leggere l'intero passo in latino ma in sostanza traducendo non sia altro che un attacco al principio di autorità infatti questa locuzione si chiude proprio con la parola autoritas cioè in sostanza sarà il come si può dire la versione prodromica di ciò che poi nella scolastica diventerà il principio di autorità ma qui si viene criticato lui riferisce ai pitagorici l'errore enorme solo 11 spettatori che succede spero che abbia ricevuto la notifica l'errore enorme di utilizzare il proprio maestro e tutto ciò che avrebbe pronunciato quindi riferirsi a pitagora come massima autorità non potendo mettere in dubbio nulla di tutto ciò cioè qualsiasi cosa detta da pitagora equivaleva a una dimostrazione formale inconfutabile e quindi in quest'opera di natura de orum cicerone utilizza ipse dixit perché non utilizza is dixit cioè non utilizza in lui il il pronome personale classico perché ipse può essere utilizzato in latino anche come rafforzativo quindi in sostanza sostituisce in maniera ancora più enfatica da ancora più peso al pronome personale terza persona singolare sapete che nel latino c'è un po di cultura questa non è di grande cultura ora me lo dico da solo però se la seguirete vi assicuro non sarà tempo perso anche per per chi studia il latino sapete che ha tre persone non è come non lo so l'italiano l'inglese dove c'è il maschile il femminile loro hanno anche il genere neutro quindi esiste il genere neutro e quindi quando vai a declinare un pronome utilizzi anche devi riferirti anche a quel caso lì quindi is e a id e u sei u sei u sei u sei u sei e e eccetera eccetera bene in questo caso l'ipse è qualcosa che non soltanto può essere utilizzato in altri contesti ci si può attaccare un aggettivo ipse illo adesso devo un attimo declinarlo comunque può si può anche riferire come rafforzativo per esempio a se stesso ipse ille lo stesso ma in generale comunque è una in questa locuzione famosissima alla funzione proprio di ribadire il il principio di autorità che in teoria qui non è ancora principio di autorità ma nella scolastica medievale diventerà tale e avrà proprio una sua locuzione caratteristica ovviamente in latino perché la lingua colta della del medioevo era il latino dante alighieri lo ha sdoganato seppur poi un volgare che riprendeva anche il latino per esempio immaginate est a est a selva selvaggia no is cioè si riferisce comunque a allo stesso in termini latino in versione un po' storfiata ok quindi il sofisma autorictatis che è sostanzialmente il principio di autorità della scolastica veniva utilizzato nelle dispute filosofiche o di qualsiasi tipo perché chi utilizzava un pensatore un'opera che nella gerarchia stava più in alto aveva automaticamente ragione e nella vetta c'era la bibbia quindi chi si riferiva a un passo della bibbia aveva vinto tutto ma il filosofo che è diventato il baluardo dell'ipsedixit nel medioevo è stato aristotele e questo è stato anche avvalorato dal dallo storico e e letterato diciamo pensatore arabo averroè 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 è è stato sostanzialmente colui che da grande fan di aristotele ne ha trasposto il pensiero in termini coranici cioè sostenendo che aristotele pur essendo un profano in materia in sostanza avrebbe avrebbe anticipato quella che era poi la sua dottrina e quindi gli ha dato sostanzialmente lo ha elevato al rango di profeta di ciò in cui in cui credeva e quindi nel medioevo in sostanza è diventato aristotele la massima autorità a cui tutti si riferivano come ipsedixit l'ha detto lui non si può assolutamente controbattere e vedremo poi in questa live al giorno d'oggi quanti casi di ipsedixit sono stati poi malamente sono riverati malamente dei fallimenti giganteschi e immagino sia anche un po controverso come discorso ma lo proveremo in maniera matematica se il premio nobel a ha detto x e il premio nobel b ha detto non x e x e non x non sono 0 qualcuno dei due non ci ha capito proprio una mazza se poi ci sono più premi nobel non significa che vincere un premio nobel in quella materia in quell'argomento ti diciamo ti dia l'ipsedixit in automatico quindi anche chi mi diceva tu non puoi dire che quel matematico famoso non ha ha sbagliato completamente quella dimostrazione quando è palesemente sbagliata e vi darò le prove perché l'ha detto lui e lui è un grande professore questo non toglie nulla al merito ma ciò non toglie che anche un grande premio nobel o o pitagora potesse sbagliare vogliamo dimostrare che pitagora e tutta la sua filosofia fosse sbagliata quindi la massima autorità del medioevo lo dimostriamo matematicamente quindi per esempio in questa live che sarà incentrata sull'ipsedixit l'ha detto lui l'ha detto egli stesso andiamo così un passando perché metteremo anche delle parti poi di matematica dentro andremo a dimostrare che tutta la dottrina pitagorica è sbagliata come facciamo a dimostrarlo matematicamente dimostrando che la loro scienza su cui si basava tutto che sostanzialmente prende il nome di aritmo geometria cioè una fusione fra aritmetica e geometria perché secondo appunto i pitagorici il numero non era soltanto un'entità astratta che vive nella nostra mente ma era diciamo il principio alla base di tutte le cose proprio inteso come sostanza cioè era la dimensione essenziale di qualsiasi cosa appartenesse al mondo fenomenico e da lì anche la dottrina negli opposti tetractis come immagine sacra in sostanza perché rifletteva il nostro sistema di numerazione eccetera eccetera e quindi c'è un moscerino e quindi andiamo a dimostrare che la loro dottrina è completamente sbagliata perché radice di due non appartiene all'insieme dei numeri razionali infatti la ritmo geometria presupponeva che tutti i numeri potessero essere ricondotti al rapporto fra due numeri interi quindi un rapporto fra due numeri interi è per forza per definizione un numero razionale se poi due numeri sono il numeratore è multiplo del denominatore e non sono nulli se noi avremmo una forma indeterminata denominatore non è nullo in sostanza a quel punto avremmo un numero naturale o un numero intero se vogliamo aggiungerci il segno ma in ogni caso sempre un numero razionale quindi se noi dimostriamo che questa cosa non è vero questa è la nostra tesi la nostra ipotesi comunque il nostro teorema è questo se riusciamo a dimostrarlo abbiamo confutato tutta la dottrina dei pitagorici crollerebbe tutta la dottrina dei pitagorici su cui appunto si leggeva il principio dell'ipsed exit per i pitagorici ma in generale era tutto ciò che loro avevano ok quindi questi sono qualcosa che abbiamo il privilegio di poter fare facilmente al giorno d'oggi ma che all'epoca sarebbe stato di una così avrebbe avuto un potere dirompente tanto che il paso di metaponto appunto fu diciamo ammonito in maniera molto pesante di non rivelare questa dimostrazione a cui era giunto a questa conclusione c'è poi il famoso aneddoto che sarebbe stato spinto giù da una barca insomma in sostanza poi la cosa però venne fuori e da lì il crollo della della dottrina pitagorica e allora andiamo ad attaccare l'ipsed exit per eccellenza per antonomasia del mondo classico come si fa allora intanto possiamo dire che se è vera questa cosa allora per assurdo possiamo tentare di dimostrare che radice di due che non può essere scritto come rapporto fra due numeri interi se noi assumiamo questo e riusciamo ad arrivare a una contraddizione abbiamo automaticamente dimostrato la tesi opposta la la contronominale come la proposizione contronominale cioè se anziché dire radice di due non è mai scrivibile in questa forma io dico supponiamo che sia scrivibile in questa forma e arriva una contraddizione allora in ogni caso deve essere per forza vero l'opposto se muove zuppa e pambagnato siamo d'accordo no quindi allora proviamo a dimostrarlo intanto ci così verifichiamo un piccolo problema cioè che a quadro se è pari se è un numero pari quindi può essere scritto scusate sì se a pari è un numero pari mettiamolo così elemento dei numeri pari chiamiamoli insieme i numeri pari più grande va allora facciamo così se a grande è elemento dei numeri pari questi non sono i numeri primi sono i numeri pari gli spari sono una di grande allora a esso stesso un numero pari allora potremmo provare a dimostrare questa cosa ma avremmo delle problematiche non è detto che che sia immediato quindi visto che possiamo anche avere dei dubbi proviamo a dimostrarlo allora un numero pari può essere scritto per forza quindi a è pari se può essere scritto nella forma 2k quindi da qui possiamo andare a fare il quadrato quindi possiamo dire che a quadro deve essere della forma 4k se il numero b è dispari allora questo sarà della forma 2k più 1 e quindi questo numero dovrà essere scritto nella forma b quadro dovrà essere scritto nella forma 4k quadro più 4k più 1 qui possiamo mettere in evidenza e quindi abbiamo che 2 che moltiplica 2k quadro più 2k più 1 è b quadro ma a questo punto vediamo che b quadro è composto da una parte che è per forza un numero pari perché è un multiplo di 2 cioè 2 lo va a moltiplicare quindi in sostanza 2 per qualsiasi numero è sempre pari e questo invece è dispari quindi un numero pari più un numero dispari è sempre un numero dispari quindi abbiamo che b è un numero dispari allora anche b quadro è dispari e se a è pari allora a quadro è pari qui però abbiamo scritto l'opposto quindi in sostanza che cosa succede se prendiamo il numero a e diciamo a è pari è chiaro a quadro sarà pari ma se a quadro è pari allora per forza a deve essere un numero pari e quindi questo qua visto che non mi va adesso di di fare tutto da solo me lo direte voi in chat per farvi diciamo partecipare intanto mi leggo dei commenti alex piralla si vabbè saluto tutti ma non è la contro nominale ma perché volete soltanto cercare di trovare le cose che non vanno concentrati ok avete fatto notare ok vi interessa la cosa sì altrimenti ok non si chiama contro nominale si chiama inversa l'implicazione inversa ok l'opposto quindi se è vero a allora non ha è falso se non ha è vero allora è falso ok quindi esattamente questo il concetto poi chiamatela come vi pare quindi allora noi siamo arrivati al punto in cui qua devo ancora definire a e b ma diciamo che a e b sono dei numeri interi così li prendiamo a caso e volendo leviamo anche lo zero così non facciamo magari qualcuno vorrebbe impressionarsi per questa cosa quindi se a è pari se a quadro è pari allora a è pari allora a deve essere per forza della forma 2k quindi se questa cosa è vera allora abbiamo a quadro un numero pari della forma 2 per 2k quadro qui non l'ho scritto scritto male questo è k quadro ok ma questo qui è uguale a 2k quadro per 2 quindi qua mettiamoci un 2 e chiaramente questo è un numero pari questo è un numero pari più un numero dispari questo è dispari va bene allora andiamo a dimostrare questa cosa da qui ok e questa è la mia ipotesi falsa no da cui devo derivare il contro diciamo diciamo la contraddizione la posso riscrivere come b che moltiplica radice di 2 uguale a qui posso fare il quadrato allora se questa è vera è vero anche che b quadro per 2 è uguale ad a quadro ho fatto il quadrato da tutte e due le parti ma qui c'è un 2 quindi a quadro è a quadro è un numero pari perché può essere scritto come due volte qualche altra cosa e questo già è un risultato interessante perché a quadro l'abbiamo già notato come deve essere fatto deve essere fatto in questa maniera qua quindi possiamo andare e utilizzare già questo risultato no siamo d'accordo vediamo se avete scritto qualcosa la storia non è corretta gb ma ci sarà qualcosa di giusto detto in 15 milioni live o devi solo notare le cose scrivilo tu dai scrivilo in chat così mi dice la storia com'è corretta perché io sapevo che il passo di metaponto avesse notato che radice 2 non fosse un numero razionale e da lì sarebbe caduta poi derivato chiaramente la confutazione la dottrina ma di tanto non voglio parlare dei pitagorici questo è soltanto un pretesto per poi dimostrare che tutti gli attacchi le cose che mi sono state fatte eccetera sono delle merite scemenze ma farò degli esempi quindi l'ipsed exit moderno è proprio un modo per evitare le conversazioni ripudiare l'illuminismo poi arriveremo anche all'illuminismo cartesi hobs e da lì la l'attacco alla scolastica e il via all'illuminismo però ci si arriva e poi voglio fare anche delle cose divertenti in mezzo come delle dimostrazioni sbagliate giusto così anpassando per divertimento allora adesso facciamo la stessa cosa con b allora prendiamo b b deve essere scritto in questa forma perché è un numero di spari quindi 2k più 1 con k numero naturale qui non l'ho messo ma mettiamoci k vabbè k lo possiamo prendere k numero intero mettiamo un k qui facciamo così e quindi questa qui mi vorrebbe diventare b quadro uguale l'abbiamo già scritta ok no l'abbiamo già scritta quindi questa già ce l'abbiamo ok ma avete corretto qual è la cosa dei pitagorici sbagliata adesso sono curioso perché devo riuscire a capire se no che vado avanti a fare se non ho la dimostrazione pitagorici comunque allora beh questa l'abbiamo messa qui dobbiamo sostituire quindi in sostanza l'avevamo scritta b quadro ce l'avevamo già è questa cosa qui in teoria possiamo andare e rimetterla qua dentro si può fare in vari modi ora non so quale sia il più pratico comunque noi abbiamo che b quadro più per due uguale a quadro quindi da questo deriva che a è un numero pari e quindi a può essere scritto nella forma 2k perché questa questa cosa qui significa che a può essere scritto anche nella forma 2k abbiamo detto prima quindi è vera l'avete scritta sta cosa dei pitagorici ragazzi io ancora ancora non ho capito che cosa c'è di sbagliato mi scrivete è sbagliato fai schifo non va bene ho capito dove c'è un errore nel mio paper dove c'è una con c'è un contro esempio alla formula che fornisco no fa schifo perché non è fatta bene ok quindi il risultato funziona non funziona non si sa quindi comunque b quadro da questa dimostrazione diventa un numero pari ora se riusciamo a dimostrare questo dimostriamo che tutto funziona perché qui come condizione non l'ho scritto avevamo che il massimo comune divisore gcd fra a e b deve essere per forza 1 ora perché questa cosa deve essere vera perché il massimo comune divisore fra questi due numeri non può essere diverso da 1 altrimenti avremmo che 1 è un multiplo di un altro per il discorso che abbiamo fatto prima quindi a e b non possono essere ulteriormente cioè devono essere ulteriormente riducibili questa deve essere la struttura di un numero razionale perché qualsiasi numero razionale può essere ridotto quindi in sostanza noi abbiamo che a e b non hanno fattori primi comuni ad eccezione vabbè del divisore comune che non è un numero primo che è l'unità quindi il massimo comune divisore fra a e b deve essere 1 questa è una condizione da cui da quest'ipotesi poi andiamo a derivare la diciamo la contraddizione la contraddizione è proprio il fatto che avremo a e b due numeri pari ed essendo due numeri pari hanno per forza un fattore primo comune che è il 2 e quindi quella cosa confligge con l'ipotesi e da lì abbiamo la dimostrazione quindi abbiamo che 4k quadro da qua 4k quadro è uguale a che cosa questo è b quadro ma a quadro uguale b quadro no l'avete visto cioè in sostanza questo è a quando vado a fare il quadrato a quadro diventa 2k quadro 4k quadro diventa questo 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 è a quadro e questo è uguale a b quadro perché b quadro non è altro che 2 aspettate che cosa mi è sfuggito 2k quadro è qua devo dividere per 2 no b quadro è uguale a quadro mezzi ok quindi 2k quadro è uguale a b quadro comunque non cambia nulla questo è a quadro mezzi perché da questa poi deriva deriviamo che b quadro è un numero pari in quanto della forma 2k quadro e c'è il 2 no quindi questo è un numero pari allora se abbiamo un numero pari e abbiamo un altro numero pari da questo deriviamo che i relativi a e b sono loro stessi dei numeri pari ok perché sono loro stessi dei numeri pari per il discorso che abbiamo detto prima e quindi visto che a e b sono numeri pari saranno entrambi divisibili per 2 quindi 2 dividerà e 2 dividerà b ma se 2 divide a e 2 divide b allora abbiamo che qui non voglio imbrattare tutta la lavagna c'è un moscerino che vola sopra abbiamo che a e b sarà un multiplo di 2 cioè saranno due multipli 2 quindi sarà della forma 2 per qualcosa ora qui non lo so come vogliamo chiamarlo n fratto 2 per m ok ma allora questi due numeri hanno il massimo comune divisore che è maggiore uguale di 1 perché può essere da 2 in poi no quindi 2 o un multiplo di 2 2 4 eccetera eccetera e quindi questa no non è maggiore uguale scusate maggiore uguale di 2 maggiore uguale di 2 diverso da 1 e questa è una contraddizione perché sono diversi quindi per forza radice di 2 non dovrà essere scrivibile nella forma a su b e quindi radice di 2 non può appartenere a q quindi sostanzialmente quando è stata scoperta questa caratteristica del più importante il più diciamo immediato risultato del teorema di pitagora perché ah il braccio che fa male perché la diagonale di un quadrato di lato unitario è proprio pari a radice di 2 unità no se il lato vale 1 la diagonale vale radice di 2 ma radice di 2 non è un numero razionale e tutta la geometria barra matematica la geo aritmetica dei pitagorici si basava proprio sul fatto che tutti i numeri dovessero poter essere scritti in quella forma quindi fossero razionali e da lì l'ipsedixit di pitagora si è rivelato fallace ma adesso voglio fare una cosa più divertente non si ok qui c'è la spiegazione non si concepiva che costruzioni con estensioni ricorsive dei razionali di ordine 2 in termini moderni di essere luogo a grandezze commensurabili e quindi che cosa cambia è la stessa identica cosa ma se ti vai a cercare proprio la definizione della loro dottrina tutto può essere ricondotto esattamente a quello che ho detto io che poi lo vuoi scrivere in un'altra forma perché ti piace usare parole diverse dalle mie va bene ma non capisco la differenza costruzioni con estensioni ricorsive dei razionali e quindi se radice di 2 non è razionale come puoi costruire qualcosa di ricorsivo utilizzando qualcosa che non esiste di ordine 2 in termini moderni i termini moderni è sbagliato utilizzarli riferire i termini moderni a una dottrina di 2000 anni fa e passa non ha alcun senso che in termini moderni tu la vuoi chiamare in un'altra maniera ma in termini antichi era quello cioè ragazzi di quello si parlava la ritmo geometria era la loro dottrina la ritmo geometria la utilizzavano come spiegazione del mondo fenomenico quindi il numero come principio alla base delle cose la dimensione dei numeri era la loro fisica era la spiegazione della realtà non era la fisica in termini moderni che utilizzano la matematica ma era quello quindi la loro la loro spiegazione di ciò che del perché esistevano era il numero era da ricondurre a quella dottrina era la dottrina dei numeri in sostanza la dimensione essenziale di tutte le cose era il numero non era un'entità estra astratta dell'iper uranio platonico che verrà dopo era quello ora il più importante allievo di 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 platone era appunto aristotele che poi diventerà la base il principio dell'ipsedixit nel medioevo da averroi in poi che lo ha diciamo non soltanto averroi ma in generale era considerato la massima espressione della della verità quindi la verità in realtà era in sostanza associata ad aristotele a ciò che aveva detto e prodotto ma le categorie da lì in poi darà anche poi lo spunto accanto se vogliamo sono state come si può dire utilizzate in maniera completamente distorta cioè dal sillogismo aristotelico si è arrivati a prendere delle delle parti rivisitarle e utilizzarle nelle varie dispute scolastiche quindi la scolastica questa non so neanche come definirla questo passaggio storico che in particolare utilizzava il sofisma autorictatis per delimire le dispute e le controversie di stampo più o meno chiamiamolo scientifico dell'epoca mischiandolo anche a dottrina cabalistica si era poi diciamo arenata nello scontro con la ragione perché con tommaso d'aquino già la ragione aveva assunto un ruolo diciamo di supporto alle verità così trasmesse dai sacri testi ma poi con cartesio e hobs dal cogito di cartesio eccetera c'è stata proprio la la cesura rispetto alla scolastica erano due due dei due mondi che entravano in conflitto e chiaramente quello più antico ha perso perché non era supportato dalle basi concrete dal punto di vista del raziocinio e quindi poi si è arrivati grazie a questo all'illuminismo l'illuminismo è proprio l'opposto i lumini della ragione devono riuscire a rischiarare le tenebre dell'ignoranza e del dogmatismo perché la scolastica era il massimo esempio di diciamo di citazionismo ora l'ipsed exit non è la stessa cosa del principio di autorità del mondo scolastico ma è sostanzialmente la sua diciamo versione che l'ho anticipato cioè è tra virgolette la versione prodromica di ciò che poi diventerà il principio di autorità e quando in una disputa se io non so che cosa rispondere cito qualcuno che ha detto una cosa più antico ha detto una cosa che godeva di maggior credito all'epoca non significa che io stia rispondendo alla domanda o stia utilizzando un'argomentazione valida sto semplicemente fuggendo dalla domanda richiamando qualcosa di magari altrettanto sbagliato che continua a perpetrare il proprio errore ma addirittura potrebbe potrebbe peggiorare le cose perché lo decontestualizzo l'utilizzo in maniera distorta e lo lo sposto dalla sua epoca e dal suo contesto storico quindi a un punto di vista filologico l'analisi di un testo fatta così è disastrosa come se oggi dicessi questo costrutto è sbagliato in italiano perché dante utilizza un altro costrutto 700 anni fa è un po quello il senso ma che stai parlando di wrestling cosa ne pensi del nobel no ma arriviamo anche ai premi nobel non a cose del genere quello non è commentabile ma in generale ora arriviamo ai premi nobel allora oggi potremmo dire va bene ma questo è un mondo antico è un mondo che ha fatto la sua epoca quindi perché perché non si può oggi dire un premio nobel a ragione basta perché ha vinto il premio nobel così pochi spettatori per una delle migliori live del canale vabbè allora facciamo un esempio io vi vado a dire a dimostrare qualcosa questo lo facciamo a un passano giusto per divertimento e poi arriviamo alla parte pesante della live che sarà proprio prendere i premi nobel le medaglie fils e andare a vedere che cosa hanno detto ok questa è una cosa insomma abbastanza pesante voi considerate una persona che vince il premio nobel che si ritrova qualche anno una o più persone che si ritrova qualche anno dopo nella propria materia a sostenere l'esatto opposto di quello che qualcuno ha tirato fuori c'è stato anche un caso di un di uno studente di dottorato di 28 anni che studiava in un'università normalissima che si è trovato a dimostrare numericamente che uno delle più importanti dei più importanti risultati appunto che decidevano anche influenzando le scelte economiche aggregate fosse sbagliata da parte di due economisti che hanno vinto il premio nobel quindi e nella disputa poi c'entranno altri premi nobel insomma sarà una sorta di di battaglia tipo smackdown quelle cose lì insomma battaglia come si come si chiamano quelle tutti contro tutti non mi il nome il termine esatto la live di domani non ci sarà che live di domani che argomento non ci sarà live domani ci sarà un video editato venerdì alle 14 ve lo posso anche anticipare l'argomento si parlerà di schoolboy contro Larry Wills ma poi ci arriveremo quindi forza contro ipertrofia ciao stefania figurati allora facciamo un esempio ok vi voglio dimostrare che zero è uguale a due facciamo finta però che questa ipotesi non sia mia ma sia un teorema di aristotele quindi noi adesso dimostriamo questo teorema questa è un'ipotesi ma adesso la dimostriamo ok mi serve prima un lemma facciamo prima lemma 1 chiamiamolo l1 nel lemma 1 io mi vado a dimostrare che zero è uguale a 1 vabbè è una cosa molto semplice che ci vuole tutti sanno che zero fa 1 no perché zero può essere riscritto come sommatoria per il che va da 1 a infinito di zero quindi possiamo iniziare a sommare 0 più 0 più zero dobbiamo farlo un bel po di volte però sappiamo anche che 1 meno 1 fa 0 quindi posso sostituire no da qua lo vado a mettere dentro che cosa ottengo ottengo che 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1 alternati ora meno 1 questa cosa avanti all'infinito no ma farà sempre zero giusto quindi a questo punto posso dire che questo farà zero qui devo mettere i segni diversamente qui ci vorrebbe un più e meno ok me la posso riscrivere facciamo che me la riscrivo così non sbaglio 1 parentesi più meno 1 più 1 più meno 1 più 1 più meno 1 più 1 più questa cosa farà sempre zero tanto sono infiniti quindi qua metto le parentesi come metto il più meno più meno più meno è la stessa cosa no 1 meno 1 è uguale a 1 più meno 1 e quindi andando avanti così questo fa 0 questo fa 0 questo fa 0 rimane 1 quindi abbiamo dimostrato che 1 è uguale a 0 ok questo ce lo teniamo questo è il primo risultato mettiamoci un quadrato con un punto interrogativo dentro facciamo un lemma 2 il lemma 2 mi interessa perché voglio dimostrare che 1 è uguale a 2 questo è uno in vari modi poi si può dimostrare in tanti modi tanto sappiamo tutti che è vero che 0 è uguale a 2 l'ha detta Aristotele allora dimostriamo quest'altra ipotesi in quest'altra ipotesi noi dobbiamo ragionare allora possiamo dire prendiamo due variabili a e b a e b che sono per esempio dei numeri reali li voglio prendere reali ma ma per comodità leviamo lo 0 magari crea problemi questo lo possiamo levare allora diciamo che a è uguale b di default quindi prendiamo due numeri reali che sono uguali a e b sono uguali però sono entrambi numeri reali dottato lo 0 potete scegliere quello che volete allora diciamo che a è uguale a b ma allora anche a quadro è uguale a b quadro è interessante come cosa ma se a quadro è uguale a b quadro ci faccio poco allora facciamo così io prendo e a ci sommo a ci moltiplico a scusate quindi a per a diventa a quadro e a b io moltiplico a quindi faccio b per a quindi ho a quadro uguale a b ora prendiamo e sottraiamo un b quadro così a buffo tutte e due le parti quindi abbiamo a quadro meno b quadro uguale a b per a meno b quadro e allora questa cosa diventa a più b per a meno b perché è un prodotto notevole questo è uguale a b che moltiplica ad a meno b moltiplica a meno b va bene adesso vabbè lo sapete tutti questi sono uguali quindi la parte dall'altra è l'uguale l'avete sempre fatto un miliardo di volte le togliete eliminate e qui non metto gli implica perché tanto avete capito che sono andato in colonna e quindi ho che a più b è uguale a b ma quanto valeva b è b valeva quanto a e allora a valeva quanto b e allora questa cosa significa che b più b è uguale a b e quindi questo significa che 2b è uguale a b e quindi questo significa che 2 è uguale a 1 ok ma adesso possiamo inunciare il nostro teorema di aristotele il teorema di aristotele dice che se 0 è uguale a 1 e 1 è uguale a 2 allora 0 sarà uguale a 2 giusto quindi vedete che è venuto ma facciamo finta che adesso noi abbiamo dei dubbi che 0 sia uguale a 2 perché lo sanno tutti che 0 è uguale a 2 ma facciamo proprio finta che voi rifiutate come foste degli passi di metaponto senza fede questa grande verità allora facciamo la stessa cosa di prima dimostriamo con un colpo solo che 0 è uguale a 2 ma se volete facciamo un'altra cosa scegliete un numero qualsiasi anche un numero irrazionale dimostriamo che 0 è uguale quel numero irrazionale no si può fare lo stesso giusto quindi scegliete un numero a caso che ne so radice di 3 vogliamo vedere se 0 è uguale a radice di 3 facciamo che 0 è anche uguale a radice di 3 ma potremmo farlo anche col 2 la stessa cosa insomma ovviamente allora sappiamo che 0 è uguale a 0 più 0 più 0 più 0 più 0 ma allora 0 è anche uguale a radice di 3 meno radice di 3 più radice di 3 meno radice di 3 più radice di 3 eccetera eccetera no e quindi insomma abbiamo visto che possiamo rimettere parentesi come vogliamo quindi abbiamo radice di 3 più meno radice di 3 più radice di 3 più meno radice di 3 più radice di 3 era manu già ne ha imparato il trucchetto vai avanti questi qua sono sempre 0 e quindi abbiamo 0 uguale radice di 3 no quindi insomma è qualcosa di ovvio quindi l'ipsedixit guai a chi lo mette in dubbio perché se l'ha detta aristotele è sicuramente vero ok questa è una cosa banale e andando avanti così possiamo arrivare a dire che vincete anche un premio nobel figuriamoci se non può essere assolutamente non esiste qualcuno che non ha vinto un premio nobel mette in dubbio quello che dice un premio nobel per esempio cari mullins quello che ha scoperto la pcr ora che se ne è uscito con delle affermazioni assolutamente curiose sui tamponi e voglio dire ha vinto nobel quindi qualsiasi diozia che dice dice lui funziona c'è un video di barbascura x andate a vedere bellissimo su questo argomento in cui usa parole un po più diciamo come si può dire un po più dirette delle mie però ecco in sostanza questa ironia non è che vincere un nobel ti qualifichi per avere ragione su tutto anche perché potresti averlo vinto in un periodo in cui eri assennato perdere il senno molti anni dopo e ricevere un battere la testa e quindi dire le cose più assurde ma vogliamo prendere qualche altro esempio facciamo stare john nash che l'ha vinto dopo il nobel e tutto ma magari non è il caso vogliamo parlare di medaglie fils grotendie che sosteneva che la velocità della luce sarebbe stata cambiata dal demonio per fare un dispetto ai mortali e lui ha vinto la medaglia fils ha scoperto una branca della matematica avanzatissima era un professore all'università poi voglio dire anche qualche altra cosa così di poco simpatico se ormai con la tia da cui poi diciamo insorta tutta la l'attacco che ho subito secondo me in maniera del tutto pretestuosa viene così citato nella sua pagina bibliografica su wikipedia mentre in italiano l'ultima riga del suo diciamo della sua bibliografia biografia scusate prima la bibliografia recita che sostanzialmente il problema di aver dimostrato eventualmente l'ipotesi di riman tutt'oggi non ha ricevuto alcun alcun commento una cosa del genere insomma non ricevuto né stato né confermato né smentito se andate sulla pagina di wikipedia english che secondo me è fatta molto meglio in generale troverete che c'è scritto testualmente nel settembre 2018 al heidelberg laureate forum lui ha affermato è una dichiarato una semplice dimostrazione l'ipotesi di riman uno dei sette problemi del millennio in matematica appunto ultima frase il problema rimane insoluto ancora nel 2020 cioè significa che la sua dimostrazione non è stata ritenuta assolutamente credibile questo significa cioè il problema oggi è insoluto lui ha affermato una semplice dimostrazione nel 2018 o è vera che la dimostrazione semplice è stata accettata oppure oggi il problema non sarebbe ancora insoluto sarebbe semmai diciamo in via di conferma la sua dimostrazione sarebbe stata accettata quindi quella dimostrazione secondo wikipedia english ci legittima a supporre che sia falsa no che sia stata un claim sbagliato ma wikipedia english dice qualcosa in più dice che nell'ottobre 2016 lui ha affermato una breve breve a short proof una breve dimostrazione della non esistenza di strutture complesse nella sei sfera nella sfera sei insomma una struttura matematica la sua dimostrazione come per molti predecessori essendo un problema molto difficile è considerata fallata is considered flawed fallata dalla comunità matematica non da me nonostante anche dopo che la dimostrazione è stata riscritta in una forma revisionata quindi non un preprint ma versione revisionata e considera comunque sbagliata quindi due affermazioni negli ultimi anni della sua vita grandissimo matematico grandissimo e più grandi una del 2016 su un problema relativo credo di stampo topologico comunque qui la potete leggere tranquillamente infatti lui negli ultimi anni con segal è ritornato alla key theory diciamo un amore di gioventù ma hopkins e segal che sono entrambi due professori ha descritto appunto si è occupato di questi aspetti va beh comunque fatto sta che nel 2016 ottobre 2016 ci sarebbe stata una dimostrazione breve fallata nel settembre 2018 un claim ancora più importante presentato all'indelberg laureate forum di una dimostrazione molto semplice claim a simple prof che al giorno d'oggi comunque non coincide con un problema aperto che rimane ancora aperto del tutto aperto quindi in sostanza credo che wikipedia english sia abbastanza diretta mentre wikipedia in italia non traduce fedelmente quell'affermazione non sa perché è stata modificata cioè sono due affermazioni diverse come se ci fosse un ips ed ipsit da qualche parte del tipo beh nel dubbio l'ha detto lui io non mazzarra a dire che non è stato dimostrato quando al giorno d'oggi su wikipedia english è scritto che è un problema ancora completamente indimostrato l'ipotesi di Eman se la dimostrazione è semplice in teoria essendo la più grande problema aperto la matematica cioè per la dimostrazione di Perelman io non mi ricordo che qualcuno dice dicesse all'epoca dopo due anni perché in generale sono due anni per dare il premio del clay institute qualcuno dicesse no ragazzi la dimostrazione di di Perelman il problema è ancora completamente insoluto c'è la dimostrazione di Perelman ci sembra credibile magari aspettiamo due anni per ripetere sono passati due anni quindi quello che dissi in quel video è assolutamente vero io in quel video affermavo che quella dimostrazione che avevo seguito secondo me non poteva avere senso ok sono stato attaccato beceramente per questa affermazione cercando i pretesti più assurdi per dire ok lui ha sbagliato quella cosa quindi lui qualsiasi cosa dice falso perché quello è un grande professore ipse dixit l'ipse dixit il grandissimo professore in questo caso ha fallito come tantissimi predecessori e non lo dico io lo dice wikipedia english che non è una fonte altrettanto autorevole ma non ho trovato alcun contro esempio a quello che sto affermando nel caso fatemelo notare ma il contro esempio non è alle cose che ho detto in live in diretta commentando una notizia da profano e non mai pubblicano l'argomento su l2 la cosa da dimostrare per dire che quel video che ho fatto era completamente sbagliato diffamatorio eccetera è che la dimostrazione deve essere corretta la dimostrazione non un mio commento su una struttura matematica non c'entra niente ok perché quella dimostrazione secondo wikipedia e la comunità matematica quella del 2016 è sbagliata quella del 2016 e la successiva del 2018 tutto il resto grandissimi risultati grandissimo matematico lo pone fra i più grandi della storia quindi ha vinto i premi più importanti ma come grotendieck negli ultimi anni della sua vita non è non allo stesso livello ovviamente ha detto cose non vere come è successo per miullins probabilmente anche se ha scoperto una tecnica importantissima come per quanto riguarda a qui metto ovviamente qui i dovuti dovuti punti interrogativi per quanto riguarda la disputa che è insorta nel 2013 fra thomas herndan scusate se lo devo leggere questo studente di dottorato di 28 anni dottorando e due grandissimi premi nobel che iniziano entrambi per r che non cito che avevano appunto definito una teoria matematica e diciamo economica molto complessa che è stata poi ha influenzato anche le decisioni di austerity in un periodo in cui c'era appunto una spinta secondo paul krugman premio nobel nel 2008 neogenesiano quindi recente premio nobel anche lui una spinta verso politiche antirecessive quindi diciamo un po' più indebitarsi per far ripartire l'economia dall'altro lato invece avevamo questa questa insomma regola matematica insomma superando il 90 per cento del debito di un paese ci sarebbero stati grossi freni al paese stesso quindi una politica di austerity per rilanciare successivamente il paese perché oltre quello non si poteva andare era qualcosa di rischioso cosa vi dico la verità io da profano in parte in materia mi reputo un profano comunque sono d'accordo con quell'idea qui si sta parlando semplicemente dei calcoli quindi non del concetto della teoria gente enormemente più in alto quindi non possa avere un'opinione sono semplicemente commentando la cosa e secondo appunto questo ragazzo c'erano dei calcoli sbagliati utilizzando excel quindi e nella disputa poi entrarono addirittura personaggi come krugman quindi un premio nobel ma fra i neogenesiani che si erano opposti alla teoria ci chiamo anche joseph stiglitz quindi shift economist altissimo livello io ho letto un libro bellissimo che parla della sua terza via no fra liberismo e diciamo e politica un po più un po più accentrate e quindi per quanto riguarda questi due autori all'inizio la critica era sull'idea ok qualcuno invece si è proprio sporcato le mani si è messo a fare i calcoli ed è sorto un problema sui calcoli quindi anche proprio è come se uno scrivesse un paper ci fosse proprio degli errori di calcolo dentro può capitare anche a chi su quelle idee ha vinto un premio nobel più di un singolo professore professore di harvard quindi di questo si parla tutti possono sbagliare e non è detto che un errore del genere vada a confutare un risultato teorico cioè può anche esserci un errore ma la teoria può comunque essere giusta magari va sistemata va corretta c'è un'imperfezione si aggira la dimostrazione come è successo per quindi non è che quell'errore dica allora abbiamo sbagliato a fare così non la vedo così anche perché in genere una teoria da premio nobel è supportata da tanti elementi ora non ho studiato approfondivamente la cosa però lì c'era comunque un errore quindi non è che è il commettere un errore confuti la teoria e l'errore lo possono commettere un premio nobel due premi nobel nella materia in cui hanno vinto il premio nobel lo possono commettere medaglie fils possono esserci medaglie fils che 50 anni dopo dicono il demonio ha cambiato la velocità della luce per fare un dispetto agli umani può capitare di tutto nel mondo e l'ips ed exit è un principio che non andava bene ai tempi della magna grecia o ai tempi del classicismo non andava bene nel medioevo non va bene anche oggi se una discussione uno ha gli argomenti per confutare un risultato vi faccio un esempio per confutare il mio teorema che è molto preciso dice una cosa molto precisa c'è un modo molto semplice per confutarlo trovare un contro esempio si trova un contro esempio si dimostra l'ho fatto in passato quando sono stato citato in un video per nome cognome avevo risposto in maniera gentile dando dei consigli sono stato attaccato con un dislike che si muovereva nel video stesso e li risposi per le rime e dissi dimostro matematicamente che questo autore che mi ha citato dicendo ho trovato la formula numeri primi ha trovato una formula che è sbagliata e ho utilizzato il teorema di rosser potevo fare anche cose più raffinate in cinque minuti in live in live cinque dieci minuti ho confutato matematicamente quella formula all'infinito non ho dimostrato che sbaglia in qualche caso bastava quello ho dimostrato che sbaglia per infiniti casi ok da un certo valore in poi chi ha più conoscenze dimostra le cose non attacca non dice fai schifo dimostra e non attacca la persona dimostra che nel risultato c'è un errore possibilmente sia un signore con gentilezza cosa io non sono altrettanto bravo a fare perché può capitare anche premi Nobel è capitato ai premi Nobel ora in questo caso magari adesso non so non ho verificato i calcoli né nulla magari thomas erndan ha sbagliato non so ho dispo di Krugman può essere qualsiasi cosa ma di certo abbiamo un premio Nobel che sostiene quella quella tesi Krugman e altri due premi Nobel che ne sostenevano uno apposta a livello numerico a livello numerico quindi o è giusto un calcolo è giusto un altro calcolo ma la teoria in sé può comunque essere corretta o praticamente corretta visto che non parliamo di una scienza esatta anche a fronte di un calcolo sbagliato quello vi voglio dire quindi io non ho idea della teoria quanto quanto sia precisa perché una teoria non è soltanto un calcolo quello può essere causa di un errore insanabile può propagarsi come potrebbe essere una cosa marginale potrebbe anche essere chi ha sbagliato chi ha rifatto il calcolo e chi gli ha dato credito quindi può essere vero tutto il contrario di tutto ma se abbiamo ha e abbiamo non ha la verità non può essere può non essere né anni non ha in questo caso può essere quando sbaglia pure tutte e due però di sicuro non possono essere vere contemporaneamente le due cose può essere vero che la teoria è giusta e corretta ma c'è un errore di calcolo per esempio ok ma non significa che quel nobel non sia stato meritato io vi dico questo cioè non arriverei da lì a dire quel nobel non c'entra niente quindi quando parlano quei due i premi nobel io non gli do retta perché hanno sbagliato un calcolo è probabile che due professori di harvard che hanno vinto un nobel ne sappiano infinamente di più di un qualsiasi professore generico per esempio o figuriamoci di un cretino come me quindi non è che quando parlano adesso non gli do più credito perché c'è un tizio che ha fatto notare un probabile errore di calcolo e sono fatto così poi in ogni discussione si riparte da zero io già parto col timore reverenziale perché ho di fronte i grandi professori poi se però in quella discussione ho trovato un errore lo faccio notare non è che dico no allora ipse dixit non posso rifare i calcoli perché devo sbagliare per forza io quello se li ha rifatti a mano e ha trovato che a lui non tornava qualcosa come a newton non tornava qualcosa nella teoria geocentrica nel modello tolemaico probabilmente era sì il modello tolemaico nel modello tolemaico a newton non tornava la gravitazione universale ma come qua santità non è qua le masse si attraggono a vicenda non è che ce n'è una ferma e le biglie che gli girano intorno gli fanno l'inchino leggiamo dei commenti marco mi dice ludovico se è più vicino al pensiero liberista o chinesiano io ne ho parlato varie volte poi non è che il pensiero chinesiano non sia non sia affatto liberista non è vero questo è la teoria chinesiana è una teoria che vede nel moltiplicatore del modello più base modellatore moltiplicatore più o meno semplificato della spesa pubblica l'elemento che poi va a diciamo ad incrementare l'effetto positivo sull'economia della ridistribuzione del reddito sfruttando il fatto che la propensione marginale al consumo di chi ha un reddito basso sia superiore a chi ha un reddito alto che ha una propensione marginale al risparmio il suo complemento a uno maggiore quindi da lì deriva il problema tu risparmi tanto non rimetti nel circuito l'economia non gira e da lì conviene apprendere di più con la tassazione e poi redistribuire rapidamente in maniera tale da creare questo effetto virtuoso creando poi anche una migliore diciamo allocazione efficiente non allocazione scusate maggiore equità insomma ecco poi c'è il famoso trade off relazione inversa proporzionalità fra efficienza ed equità che deriva appunto al principio microeconomico le due ipotesi principali curve di indifferenza convesse e perfetta razionalità del consumatore quindi preferenza per la varietà da cui derivano curve di indifferenza convesse e la razione del consumatore è una cosa assai assai stramba e quindi si tende a un ipotetico ottimo paretiano equilibrio di second best grazie al fatto di poter cercare di muoversi all'interno di questo di questo spazio che appunto è lasciato alle decisioni della dei governanti o comunque da chi gestisce il mercato di poter passare da equità estrema e bassa efficienza a efficienza più alta e bassa equità dal mio punto di vista l'optimum è qualcosa che varia a seconda della situazione generale più c'è povertà più secondo me ha senso andare verso l'equità sempre rimanendo nella zona in mezzo questa è la mia idea senza ricercare gli estremi che è quello che poi avviene nella pratica nel mondo che conosciamo quella avviene nella società nostra però questo potrebbe avere anche un effetto recessivo quindi quella cosa va pure studiata bene e da lì ci sono dei vari parametri ci sono tanti studi sono cose complessissime cui non mi posso occupare ecco in questo caso per esempio si parlava anche di quello cioè fino a che punto uno stato si può indebitare prima di avere dei danni dei side effect pesanti facciamo dei calcoli creiamo dei modelli ci può essere una virgola sbagliata può essere più o meno importante se qualcuno lo fa notare se poi quell'errore esiste davvero perché questa è una cosa io so della disputa non so chi ha ragione in questa disputa non è che ho detto quella persona ha ragione ho detto c'è stata questa disputa gb allora se continui a dire in esattezze uno te lo dice non ti puoi tenere dietro le mille scuse io sto in live facendo una live secondo me di altissima qualità ok siamo passati da aristotele pitagora ne parlo nel mio romanzo io le in esattezze nel mio romanzo trova in esattezze in questo libro compratelo non te lo puoi comprare non è in vendita vai in biblioteca te lo fai prestare lo leggi e capisci che hai di fronte e che mente hai di fronte io ho pubblicato per hobby una decina di paper pubblicati ce li ho di matematica ce li ho di psicologia cognitiva ho fatto conferenze sono stato che speaker in una conferenza internazionale su invito e da altre parti le in esattezze si fanno notare con dei paper scritti tu sei in grado di scrivere un paper con un contro esempio al mio teorema perché questo è un risultato originale questo è un risultato che uscirà su un giorno al peer review questo mese questo mese non fra dieci anni io ho dimostrato delle cose che nessuno al mondo sapeva ok le ho trovate le ho applicate e ci sono le prove se tu credi di essere bravo non dico altrettanto ma solo in grado di capirlo e avere più conoscenze potrai sicuramente trovare un contro esempio in questo teorema e nel paper relativo in cui do le formule esplicite io ho due variabili ben due variabili molto peggio che nel paper sui numeri primi in cui ce potete scegliere come volete poter scegliere il parametro a e il parametro b date un valore ad a un valore a b che con la vostra dimostrazione per assurdo vi creano dei problemi e lì sicuramente uscirà un valore diverso da quello che ottengo io con una formula generale ok voi potete cercare quel caso specifico e dire la formula non funziona ne siete capaci oppure rosicate ad alta voce ciao smarties i miei sono fatti le vostre soltanto parole e pretesti per cercare di trovare errori in chi con una mente superiore produce risultati originali che a voi danno fastidio ipsi ed icsit ma non il vostro il mio ciao smarties